Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Scusate, assenza, di nuovo, ma sono in sessione. Io ne ho sempre una, lo so, però cerco di essere il più costante possibile e sono molto contenta di essere qui oggi di nuovo perché vi voglio far vedere tutti i regali di Natale che ho ricevuto in ambito di libri. Quindi, sono un po', non tantissimi, non eccessivi e sono molto molto contenta. In più, stamattina vi caricherò questo video lo stesso giorno in cui lo sto registrando, quindi oggi, e mi è arrivato questo pacchettino che è un libro che aspettavo e quindi alla fine lo conteremo come regalo di Natale e lo apriamo insieme. Però inizio a farvi vedere un po' quelli che sono stati i miei regali fino ad oggi. Allora, il primo è un'Iperborea, perché non poteva mancare, e si chiama L'Ex della Saga. Questo lo volevo, è una delle tante saghe nordiche che è Iperborea pubblica. Mi mancava, io ho la saga di Gunnar e la saga di Odr l'Arciere e non vedo sinceramente l'ora di leggerla. Io adoro questi racconti del passato, queste leggende, questi miti nordici, mi fanno impazzire e quindi questo. Come sapete ho tante letture in arretrato, barra... Nell'ultimo video vi ho fatto vedere come volevo un po' leggere i miei libri che sono rimasti in libreria. Quindi non andrò subito a leggere questi, però sicuramente arriverà anche il loro momento. Spero molto a breve, soprattutto per i prossimi tre libri, che sono molto voluminosi. Perché io sto leggendo i tre moschettieri e li amo. Gli ho quasi finiti e penso che Dumas sia veramente un genio. Cioè io capisco perché abbia questa fama, perché è spettacolare, è pazzesco. Quindi adesso vi faccio vedere mia cugina cosa mi ha regalato, perché ha deciso di rifarmi tutta la parte della libreria riguardante Dumas, dopo che io le avevo detto che stavo leggendo i tre moschettieri. Allora, partiamo con il seguito dei tre moschettieri, perché c'è pure un seguito che è vent'anni dopo. Quindi andiamo a vedere la storia dei tre moschettieri e di D'Artagnan esattamente vent'anni dopo. Quindi cos'è successo nella loro vita, dove sono finiti, cosa stanno facendo. Questo libro è importante anche questo, perché ha novecento e passa pagine, devo dirvi. Io non vedo l'ora. Cioè non vedo l'ora di finire i tre moschettieri e di sapere come va avanti la loro storia. Però, prima dei vent'anni dopo, penso proprio che andrò a leggere La guerra delle donne. Questo è più contenuto, ma ha comunque più di cinquecento pagine. Detto questo, è il mondo dei tre moschettieri e di D'Artagnan, ma dalla parte femminile. Se voi avete letto, state leggendo i tre moschettieri, saprete che, oltre a loro, c'è anche tutta la parte delle donne che li aiuta, di cui si innamorano, eccetera. Quindi è, diciamo, lo stesso periodo, ma visto dal loro punto di vista. Non so se sono esattamente le stesse donne che vengono citate, o comunque tutti gli intrighi di corte, ad esempio della regina, e riguarda altre donne all'interno e fuori dalla corte di Francia dell'epoca. Però questo, questo penso che sarà la mia prossima lettura. So che non si dovrebbe fare, leggere subito i libri nuovi, però mi intriga troppo. E poi, per finire, il grande classicone di Dumas, che è Il conte di Monte Cristo. Il conte di Monte Cristo, io non ho sentito una persona che l'abbia letto, che mi abbia detto, non mi è piaciuto. Quindi questo libro deve essere il capolavoro in assoluto, solo che è un libro molto importante. Questo libro ha, penso, più di mille pagine, vi dirò la verità, esattamente. Più di millecento pagine. E oltretutto è scritto molto, molto piccolo. Quindi per questo mi ci vorrà del tempo. Non penso che sarà una delle mie prossime letture, perlomeno non prima che io abbia finito la sessione, perché mi sta un po' facendo impazzire. Un altro libro che non mi aspettavo, un po' mi sono spoilerata, ma che è un capolavoro. Un capolavoro. Allora, io ho già letto il libro. L'ho letto in francese. E avevo anche, mi ero innamorata della rappresentazione teatrale che fecero quando uscì il libro, sempre in francese. Questo me l'ha regalato mia sorella ed è uno dei regali più apprezzati, perché è Notre Dame de Paris, ma illustrato da Benjamin Lacombe. È un illustratore molto particolare. Come potete vedere già dalla copertina, lo stile può piacere e non piacere. Io lo amo alla follia e l'edizione è spettacolare. È ovviamente dell'Ippocampo, perché sono loro che fanno questi libri molto particolari, lo sapete. Ha il dorso in tessuto con le scritte d'oro e qui in fondo abbiamo il gobbo ed esmeralda. E poi ha tutti gli edges, le pagine, insomma, nere. Le illustrazioni dentro sono qualcosa di meraviglioso. Io, come vi dicevo, amo questo illustratore e penso che sia molto particolare, quindi può non piacere. E la cosa che mi piace, oltretutto, è che ci sono illustrazioni anche su entrambe le pagine. Adesso ve ne cerco una, che per me sono qualcosa di meraviglioso. Adesso non so bene come farvela vedere, sono sincera, perché è un libro molto grande, oltre che molto voluminoso, è anche molto grande. E quindi non è un libro che si può portare in giro. Ecco, diciamo che se volete leggervi Notre Dame de Paris sul tram, questa non è l'edizione corretta. Spero si sia visto, però, cioè, mio, bellissimo. Non vedo l'ora di leggermelo in italiano e di rispolverarmi tutta la storia. Non ha il lieto fine, eh. Il gobbo di Notre Dame, non ho pensato a quello della Disney, perché non ha assolutamente il lieto fine. Però è molto, molto bello. Cioè, io mi ero innamorata alla follia. Ora, quindi questi, come vi dicevo, non sono tantissimi, ma sono i miei regali di Natale libreschi e sono non apprezzati di più, di più. Quindi direi che andiamo a spacchettare insieme. Allora, io so già cosa c'è dentro, però è arrivato oggi, che è il 30, quindi lo facciamo contare come regalo di Natale. Ok. Bello. Allora, sapete che io amo le fiabe di Perborea? Ci sono diversi video sul canale in cui ve ne parlo e io le ho lette tutte, tranne le fiabe groellandesi, che ho messo appunto nel famoso scegli un libro al buio, diciamo. Quindi quello che vi ho fatto vedere nell'ultimo video che impacchettavo. Questo è un altro di questa serie, si chiama Intorno al fuoco, fiabe e storie della terra dei sami. Questo è molto piccolino, quindi a dire la verità si può leggere in fretta 150 pagine ed è bellissimo. Io non mi spendo più sulla bellezza di queste copertine, perché ormai lo sapete che io ne vado pazza. E queste penso che mi accompagneranno. Le fiabe groellandesi sono molto alte, queste invece sono basse, quindi penso che mi accompagneranno nei miei spostamenti in tram quando ricomincerò l'università, il secondo semestre. E mi sto rendendo sempre più conto, oltretutto, che ho una quantità di libri di perbora sulle sfumature dell'arancione, che è il mio colore preferito. Non indifferente, cioè la maggior parte dei miei libri di perbora sono sulle sfumature dell'arancione. Assurdo. Comunque, questi erano tutti i miei regali di Natale, fatemi sapere se ne avete letti qualcuno, soprattutto riguardo a Duma, e fatemi anche sapere cosa avete ricevuto voi a Natale, perché sono molto molto curiosa, sapete. Io spero che questo video vi sia piaciuto, non vedo l'ora di farvi il video della fine dell'anno di tutti i libri che ho letto, perché sono gasatissima, non vedo l'ora di parlarne con voi, di fare il recap del 2022. Come sempre, se volete supportare il canale, lasciate un pollice in su e iscrivetevi. Se volete farlo in modo attivo, c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro. Io vi lascio i miei profili Instagram e TikTok nell'infobox e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!